andiamo tengo un razzo quadruco potenzialo ma quella di prima non l'hai fatta no? si ho fatte tutte penso però vabbè devo sempre controllare non ce l'ho contato stanno dall'altra parte ragazzi piano da dietro piano da dietro andiamo fuori da lì cosi sbatacchialo il verme sbatacchialo dai guarda spaffo spaffo già se sta a mappi a quell'altro titano chi è che t'ha tirato la granata? spaffo ma qua è questo coglione eccolo qua ce l'ho ce l'ho dove ce l'hai? ce l'ho io davanti vai avanti vai avanti ma che cazzo non c'hai un cazzo si io sto a sparare ce l'ho qua io ragazzi sta scappando da me e gli sto passando davanti venite qua eccolo qua guarda non mi spara non mi spara perchè non si vuole far vedere ma sta qua vi giuro ecco l'avete visto? vermazzo vermazzo è fottuto era fottuto vermazzo 3 contro 2 il primo l'avevo fulminato questo voraccio se nasconde io gli ho sparavo lui non manco mi rispondeva al fuoco per non farse vedere da voi capito? vermazzi vermazzi ma come sono venuti da lì e hazard scrimi 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 dove stanno i vermazzo è quelli qua nascosto i chi pafo lascia lascia lo da giù lascia lo da giù i chi co te te fatti questo oh al do bo vi si ti 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 fuori fuori popolo e me lo dà qualche dottore per farti vedere si mi ha detto che mi ha detto che sono un caso inguaribile ah beh allora hai capito? ha detto che devi essere per forza così non c'è inguarimento dall'altra parte ragazzi dove erano prima? vado vado da questa parte me li trovo mi hanno messo le lineare che si fida una puttana mi hanno sgherrato il titan siamo sotto l'arco di titan come non muore? mi li hai fatto malissimo cazzo ma questo non muore 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 cazzo gli ho sparato l'ira di dio addosso porca puttana vabbè dai io faccio la ripresa non intervengo così siete due contro due però pensateci che siete due contro due io non ce sto eh non ve ne dimenticate dici mi devo togliere e allora mi devo togliere anche quest'arma potenziale no no gioca gioca io vi guardo però non sparo se no siamo 3 contro 2 papà andiamo a piedi io seguo sparo no non fate cazzate dai c'è il gameplay in corso avanzate così come lui oh occhio alla tribo di minacce andiamo a vedere lo sparo eccolo eccolo scappa ecco ecco mini arc stanno tutte e due qua comunque ehi vabbè uno eccolo la ce l'avete voi uno ce l'ho qua io ma non gli sparo perchè mi fa un po' pena stiamo distanziando l'IMC sempre di più per fatto ti amo e spostati davanti a me l'ho salvato dall'esplosione nucleare incredibile a quello l'ho tirato fuori mentre hazard si faceva esplode incredibile incredibile